Ciao amici! Oggi siamo in confine di Tom! Adesso spiegaci cosa succede se si mischia la bile di un pollo e l'olio? Succede che la bile si mischia l'olio. Si chiama emulsione di bile e olio. Ma quante ne sai? Tante. Dio ci sta fuoco! Presto! Presto! Vai a spegnere! Niente era solo la torta salata per pranzo che si era bruciata. Accidenti! Beh amici, questa cosa è interessante. Ci vediamo alla prossima! Ciao!